Allora mister ti anticipo già che finirò la domanda chiedendoti se sei soddisfatto di questo punto però prima c'è da analizzare una partita che ha veramente mille volti perché un primo tempo dove la tua squadra ha dominato, è stata benissimo in campo è andata meritatamente in vantaggio, poi un'espulsione su fine del primo tempo che ci lascia qualche dubbio e poi un secondo tempo dove la tua squadra comunque nonostante il gol del pareggio dimostra di avere un cuore grande così quindi sei soddisfatto del punto? Hai detto bene, hai detto bene tutto, sono soddisfatto del punto per la sofferenza che comunque i ragazzi hanno patito durante il secondo tempo ma gli ho detto ai ragazzi sono orgoglioso di quello che hanno fatto perché ho visto che nessuno si è tirato indietro e hanno lasciato tutto sul campo perché se avete visto quando hanno affischiato alla fine i ragazzi estremati perché comunque veramente hanno dato tutto e comunque in dieci abbiamo difeso e siamo ripartiti anche con numerose opportunità per renderci pericolosi quindi ho detto bravi ai ragazzi perché veramente era l'interpretazione che volevamo dare alla partita perché comunque sapevamo che loro sono una squadra che gioca e noi con una buona fase difensiva e ripartenza potevamo far male e dobbiamo cercare di concretizzare un po' di più le occasioni come è successo anche nelle altre partite però io sono convinto che i ragazzi stiano facendo il lavoro che stiamo chiedendo noi Per presentare questa partita dicevi che per affrontare il Bologna sarebbe servita grande aggressività e questa è stata messa in campo perché insomma Provan è il gol di Diaw che va a cercare quel pallone ad aggredire l'avversario e poi alla fine è lui che consente al difensore di fare un errore ma è successo in partita altre volte c'è un'aggressione veramente per io dico 90 minuti e alla fine insomma il pareggio è stato il risultato avevamo preparato così la gara perché loro sono molto bravi a palleggiare però allo stesso tempo rischiano un pochino avevamo visto che più volte anche il portiere rischiava la giocata infatti quasi D'Agostino ruba la palla al portiere e quindi quando vedo i ragazzi che fanno quello che proviamo in settimana per me è un orgoglio anche per me perché vuol dire che seguono quello che proponiamo e poi dopo le qualità che hanno sicuramente aiutano perché ho tanti giocatori con grande qualità e grande temperamento perché veramente reggere in dieci il secondo tempo come hanno fatto con quella voglia nonostante tutto di provare a vincerla veramente mi rende orgoglioso lo ripeto ma è così